La vendita di alcuni prodotti come farina, olio e zucchero provenienti dall'Ucraina è stata contingentata. Se ne possono acquistare solo quattro pezzi in una spesa. È un provvedimento di Unicop Firenze cautelativo per evitare che questi prodotti scompaiano dagli scaffali. Non c'è problemi di prodotti, i prodotti ci sono, però questi tre prodotti che provengano in gran parte anche dall'Ucraina, come l'olio di semi girasole, la farina e lo zucchero, siccome il mercato ci sta dando dei segnali di un po' di crisi, noi abbiamo avuto nella scorsa settimana alcuni episodi di accaparamento, ma non da parte dei clienti, più da operatori commerciali. Allora per garantire che questo prodotto ci sia per tutto abbiamo deciso di contingentare per una spesa quattro pezzi per ogni prodotto. Per quanto riguarda il grano, grazie agli investimenti che negli anni scorsi sono stati fatti, il grano in Toscana è aumentato come produzione, quindi si può dire che siamo autonomi? Ecco, diciamo rispetto a questo colgo l'occasione che mi date per dirvi che noi diversi anni fa abbiamo iniziato un progetto nei produttori toscani di grano senza glifosato. Oggi tutto il nostro pane panificato a punto di vendita è fatto con farine toscane, quindi abbiamo anche un'autonomia importante dal punto di vista, oltre della qualità, anche delle quantità. Quindi grazie a un progetto fatto tanto tempo fa abbiamo farina toscana a sufficienza per panificare.